la variante inglese del covid è più infettiva non più pericolosa parla davide corti biotecnologo lecchese tra i primi a identificare mesi fa le mutazioni del virus sgomberate dalla polizia locale di pescate 30 persone in un locale del paese il sindaco siamo intervenuti dopo diverse segnalazioni identificati tutti i presenti più di otto ore di intervento per salvare ieri due escursionisti travolti da una valanga in grignetta l'appello del soccorso alpino non si va in montagna con queste condizioni uno straordinario gol del fantasista simone iocolano suggella la vittoria casalinga dell'ecco sulla provercelli attesa per la sfida di mercoledì a olbia buonasera per ritrovati con l'informazione locale di unica tv edizione di lecco la variante inglese del covid è un mutante multiplo molto più infettiva ma non più pericolosa parla il lecchese davide corti di biotecnologo tra i primi a identificare negli scorsi mesi le mutazioni del virus i vaccini potrebbero non essere efficaci contro questa variante ma siamo in grado di modificarli velocemente sentiamo davide corti ricercatore della virbiology technology mesi fa avevamo parlato di una mutazione del virus del covid scoperta proprio in scozia a glasgow in questi giorni il tema principale su tutti i giornali è quello della nuova mutazione inglese cosa ci puoi dire ma certamente si tratta di una novità perché è un'evoluzione del virus in un nuovo ceppo che rispetto al passato non ha non è caratterizzato dall'introduzione di una sola mutazione ma di una collezione di mutazioni addirittura otto in totale nella proteina spike più altre in altre proteine del virus che rappresentano sicuramente il potenziale principio di un'evoluzione più importante del virus che dobbiamo certamente monitorare e tenere molto sotto controllo qual è il collegamento rispetto alla mutazione che proprio il vostro laboratorio di cui tu sei a capo aveva scoperto alcuni mesi fa il collegamento che questa mutazione possono conferire e sembrano conferire al virus una capacità di diffondersi con maggiore efficienza è stato stimato che questa nuova variante si diffonde con una velocità maggiore del 70 per cento quindi il famoso R con 0 di cui si parla molto pare che sia aumentato di almeno 0,4 che significa che molte più persone hanno il potenziale di essere infettate da questo virus però è importante rilevare che non c'è nessuna evidenza che questo nuovo ceppo sia più virulento cioè quindi causi un maggiore infezioni più severe quindi un maggiore numero di ospedalizzazioni. I vaccini gli esperti che sono stati interpellati tra ieri e oggi sembrano menzionare che i vaccini non dovrebbero risentire di queste mutazioni certamente non c'è ancora un'evidenza sperimentale di questo quindi secondo me servirebbe un po di prudenza e servirebbe al più presto di verificare che la risposta anticorpale indotta dai vaccini che si stanno utilizzando sia ugualmente efficace anche contro questo nuovo ceppo. Se il vaccino non dovesse essere efficace? Come per esempio per il virus dell'influenza si potrebbe in qualche modo aggiustare il vaccino aggiustare la sequenza del vaccino e adattarla a questo virus per così dire mutevole. Questo lo facciamo appunto come dicevo regolarmente ogni anno nel caso dei vaccini influenzali. Oltre una trentina di persone sgomberate dalla polizia locale in un locale di pescate poco prima dell'inizio di una festa privata con tutti i tavoli già apparecchiati per la cena. A spiegare quanto accaduto il sindaco Dante Recapitani mi erano giunte segnalazioni sia da cittadini di pescate che da residenti fuori comune che in quell'edificio si facevano feste con musica e intrattenimento in sfregio alle norme anti-covid. I residenti lamentavano in più occasioni una presenza di autovetture superiore al normale nei dintorni dello stabile. Ho dato quindi disposizioni alla comandante Chiara Fontana di fare intervenire le nostre pattuglie per verificare il rispetto dei divieti. Gli agenti hanno identificato i presenti e i responsabili della festa a cui sono stati notificati o saranno notificati nei prossimi giorni i provvedimenti. I stessi sono stati trasmessi anche alla prefettura per gli ulteriori atti di competenza in un periodo come questo in cui tutti sono obbligati a pesanti restrizioni alla propria libertà personale. Questi comportamenti denotano assoluta mancanza di rispetto, conclude De Capitani. Travolti dalla neve mentre si trovavano sul sentiero che collega la cresta Cermenati al canalone Porta. Ci sono volute più di otto ore per trarre in salvo due escursionisti di 36 e 46 anni investiti da una slavina domenica all'ora di pranzo in Grignetta nella zona dei Magnaghi. Condizioni meteo proibitive, non si va in montagna con questo tempo, dice il capo stazione di Lecco Giuseppe Rocchi. Travolti dalla neve mentre si trovavano sul sentiero che collega la cresta Cermenati al canalone Porta. Ci sono volute più di otto ore per trarre in salvo due escursionisti di 36 e 46 anni investiti da una slavina ieri all'ora di pranzo in Grignetta nella zona dei Magnaghi. Uno dei due, ferito una gamba, non era in grado di muoversi. Sono stati loro a chiedere l'intervento del soccorritore con cui sono rimasti in contatto per tutto il tempo. Un intervento complicato e pericoloso che ha messo a rischio l'incolumità degli stessi volontari del soccorso alpino per la presenza di molta neve e le continue scariche che si staccavano dal versante montuoso. Una ventina di tecnici delle stazioni di Lecco e Valsastina-Valvarrone sono partiti per salire fino alla zona in cui si trovavano i due uomini. Un miglioramento temporaneo della situazione meteorologica in serata ha consentito l'elisoccorso di Areo decollato dalla base di Como e abilitato per il volo notturno di raggiungere la coppia e portarla a terra. Erano già le 21. Per i tecnici dotati di barella è proseguita invece la discesa. Illeso uno dei due escursionisti, l'altro se l'è cavata con un trauma ad una spalla e ad una caviglia. Entrambi, dopo il distacco del materiale ghiacciato che li ha travolti, si sono ritrovati bloccati in una zona molto difficile da raggiungere e con condizioni meteo proibitive. Sono della zona, hanno detto di essere esperti, viste le condizioni del tempo di ieri e il preallarme valanghe, consentitemi di avere qualche dubbio. Non si va in montagna con un tempo simile. Le parole del capo stazione di Lecco Giuseppe Rocchi, l'appello vale anche per i prossimi giorni. Ancora cronaca tragedia nel pomeriggio di ieri a Suello. Una donna di 89 anni, liberata a Stefanoni, ha perso la vita nella propria abitazione a causa di un principio di incendio partito probabilmente dal piano cucina. La donna viveva sola al secondo piano di una casa di via provincia. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana zia del sindaco Giacomo Valsecchi. L'abitazione è stata apposta sotto sequestro, ma non è stata risposta l'autopsia della vittima. Domani i funerali. Dal 7 gennaio dovrebbero tornare in classe i studenti delle scuole superiori. Secondo il gruppo lecchese di azione, movimento dell'ex ministro Carlo Calenda, le lezioni in presenza possono essere garantite in sicurezza solo per la metà degli studenti. Meglio ridurre sindora, spiegano, piuttosto che trovarsi di fronte all'ennesimo dietro front all'ultimo. Il prossimo 7 gennaio, stando a quanto dichiarato dal ministro Azzolina, le scuole dovrebbero riaprire, le scuole superiori. Ci sono le condizioni nella nostra provincia perché questo possa avvenire in sicurezza? Se l'è chiesto il gruppo di azione. Purtroppo la nostra risposta è molto semplice, è un no. Abbiamo analizzato con i nostri iscritti, che sono insegnanti, ricercatori, comunque persone attive nel settore, le varie variabili, dai trasporti alle infrastrutture digitali non c'è modo davvero di garantire la sicurezza con il 75% degli studenti delle superiori in classe. Innanzitutto è stato il ministero che ha delegato la gran parte delle proprie responsabilità ai presidi e alle autorità prefettizie. Si è cercato in qualche modo da parte del prefetto e di tutti coloro che hanno preso parte a questi incontri di organizzare per quanto possibile i trasporti, ma ci trova davvero con delle situazioni irrealizzabili, con sei diverse tratte di pulma che devono portare gli studenti a scuola. Semplicemente pensiamo sia alla solita bandiera politica, con cui si permette di rientrare tutti a scuola, salvo poi mangiarsi la parola con due giorni di anticipo. Noi pensiamo che in questo momento sia importante essere chiari e concreti e obiettivi riguardo a quella che è la situazione che viviamo. Il 50% è già una percentuale elevata e crediamo che quando si tratta di studenti delle superiori si possa davvero garantire un servizio più razionale, più sicuro e più implementabile, alternando semplicemente una settimana alla settimana, sì alla settimana, no per i vari studenti. Veniamo ora allo sport. Importante vittoria per la Calcio Lecco che ha superato per 2-0 la Pro Vercelli. Un successo impreziosito dallo straordinario gol di Iocolano. Un super Iocolano fa volare il Lecco. I Brucellesti battono a riga Monticeppi la Pro Vercelli in una partita da categoria superiore per ritmo, applicazione tattica, qualità delle giocate. Buona la prima per Gaetano Mancino chiamata a sostituire lo squalificato Mister D'Agostino in panchina. Primo tempo molto chiuso con entrambe le squadre che si coprono bene e non concedono praticamente nulla. Ne nasce un match estremamente tattico. Capogna al decimo sbaglia uno stop a due passi dalla porta, poi per quasi tutta la prima frazione solo poche conclusioni che non impensieriscono i portieri. Al 42esimo Kaprov, positiva la sua prova, tenta la brodezza con un gran destro da fuori area, palla deviata e fuori di un soffio. Al 45esimo è la Pro Vercelli a rendersi pericolosa, contatto in area Pissardo Comi, l'arbitro fischia a fallo sul portiere. Ripresa decisamente più densa di emozioni. La Pro Vercelli ci prova subito con il colpo di testa di Della Morte che si spiegne alto sopra la traversa. Al 56esimo Kaprov e Iocolano confezionano una fantastica triangolazione che mette in difficoltà la difesa dei bianchi. De Marino trattiene Iocolano proprio all'altezza della linea dell'area. Il signor Zufferli di Udine non ha dubbi e rigore. Sul dischetto va Capogna, il tiro è angolato, Saro riesce a deviare sul palo ma la palla finisce sulla sua schiena e rimbalza docile docile davanti alla linea. Capogna non si fa pregare e si riscatta istantaneamente dell'errore. 1-0. Kaprov è ispirato e trova un grande corridoio ancora per il numero 20 Lecchese che in diagonale non trova il secondo palo. Emanuello dalla lunghissima distanza non sorprende Pissardo. Il Lecco potrebbe raddoppiare al 75esimo quando Capogna serve uno splendido pallone per il volitivo Giudici che stanco non trova la lucidità per chiuderla. Due minuti più tardi ci pensa Iocolano a mettere a posto le cose con il gol della stagione. Nannini da terra tiene in campo un pallone impossibile e lo serve al fantasista Lecchese. Finta, doppio passo, dribbling e tiro a giro all'incrocio sul secondo palo. Un gol alla insignia che chiude le speranze di rimontare gli ospiti, pericolosi solo all'ottantesimo con un cross che attraversa tutta l'area. All'ultimo minuto di recupero Marzorati spinge a palla lontana Comi. Per l'arbitro è cartellino rosso. La partita si chiude così. E non perdete la puntata di domani sera alle 19.50 di Cuore Blu Celeste, ospite in studio. Abbiamo il centrocampista Matteo Marotta. Un sogno che passo dopo passo è divenuto realtà. Il Lungolago di Malgrate ora arriva al Ponte Kennedy. A breve partiranno i lavori per il tratto tra i due ponti. Sentiamo. Il Lungolago di Malgrate è un sogno che è diventato. In realtà manca solo il pezzo fra i due ponti. I lavori inizieranno a gennaio e si concluderanno. Entro l'estate la passeggiata sarà completa. Pochi giorni fa è stato aperto il tratto fino al Ponte Kennedy. Siamo molto soddisfatti di questo intervento. È come dire la conclusione di un sogno iniziato 12 anni fa e che oggi volge praticamente al termine. Quindi restituiamo alla cittadinanza, ai malgratesi ma anche al territorio. Credo un'opera che rimarrà negli annali della storia perché non è da tutti rifare completamente il Lungolago nei termini come l'abbiamo noi fatto. È stato un investimento non da poco per la nostra piccola amministrazione ma alla fine quel sogno oggi è realtà. I lavori sono stati oggetto di critiche per il taglio di 12 pini marittimi. Siamo in Italia, comunque va bene. Adesso hanno qualche associazione ambientalista, ha evidenziato che abbiamo commesso delle illegittimità. Dal nostro punto di vista siamo sedenti tranquilli perché l'opera ha avuto tutte le autorizzazioni di tutti gli enti a partire dalla provincia, regione e altri enti del territorio quindi siamo tranquilli. Dopodiché va bene se queste cose avranno il loro corso ci adegueremo e ci attrezzeremo per rispondere in maniera apriopata alle eventuali osservazioni che ci porranno. Babbo Natale accoglie i bambini calolziesi in piazza Vittorio Veneto fino alla vigilia. Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere magico anche questo Natale così particolare, sottolinea l'assessore Cristina Valsecchi. Intanto si è chiuso il bando rivolto ai commercianti che hanno chiuso nel primo lockdown. Anche Babbo Natale rispetta le norme anti-covid ma non manca di fare visita ai bambini calolziesi portando un po' di magia in questo Natale così particolare. Fino alla vigilia sarà nella scintillante sfera che illumina piazza Vittorio Veneto, pronto a ricevere le letterine dei bambini e scattare un selfie insieme. Per chiudere il Natale in bellezza non poteva mancare il Babbo Natale, quindi ci sarà all'interno della sfera in piazza Vittorio Veneto il nostro Babbo Natale che riceverà tutte le letterine e perché no fare un selfie anche col vero Babbo Natale. Per non far mancare l'atmosfera natalizia l'amministrazione comunale ha anche lanciato nelle scorse settimane l'iniziativa Città di Lucia Calolzio Corte. Le iscrizioni per partecipare al concorso che premierà i tre cittadini che hanno meglio decorato esternamente la propria abitazione si sono concluse il 15 dicembre. Dieci partecipanti spiega l'assessore Cristina Valsecchi che si ritiene soddisfatta visto il poco tempo in cui è stato pensato e organizzato il concorso con il solo scopo di rendere più felice questo Natale. Intanto si è chiuso anche il bando rivolto ai commercianti che hanno dovuto chiudere le proprie attività durante il lockdown primaverile. 100.000 euro la somma messa a disposizione dal Comune, 1.000 euro ad ogni attività che ne avrà diritto. Il bando è stato chiuso, abbiamo avuto 118 richieste, si stanno analizzando tutte perché dobbiamo controllare il codice Ateco, se ci sono stati i pagamenti dell'Imo e dell'Atari. Come promesso prima di Natale manderemo un'email a tutte le persone che hanno partecipato con la risposta positiva o negativa se hanno diritto ad avere questo contributo. Cordoglio in città per la scomparsa di Don Fabio Baroncini guida e riferimento per tanti studenti e famiglie lecchesi appartenenti al movimento di comunione e liberazione. Nato a Morbegno e cresciuto a Lecco, dopo gli anni trascorsi a Milano, Don Fabio era ritornato in città, accompagnando ed essendo accompagnato dalla comunità Beato Serafino dove risiedeva. L'amministrazione comunale si unisce al cordoglio di chi ha conosciuto questo illustre lecchese nella gratitudine per il servizio reso in tanti anni, soprattutto ai più giovani. Io prima di chiudere vi ricordo che potete leggere tutte le nostre news in tempo reale sul nostro sito teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata! Grazie per averci seguito, buona serata!